Oggi al mercato io stavo guardando bancarelle più belle del mondo Quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta Scusi maestro ci metta la crosta ma è già pronta la risposta Ed eccolo qui, lo vedi arrivato Stellina Ma che va trovando in Stellina? E allora tu Dillo Stellina Buonasera cari telespettatori e bentornati a Dillo Stellina Lunedì, martedì, giovedì e sabato ore 19.30 canale 16 Super J La mail è dilloastellinachiocciolasuperj.it Il numero whatsapp è 351 7532450 Siamo tornati in quel di Mociano, andiamo a sentire cosa dice la gente Dottor domenica ci vai a votare? Pensi di sì? Pensi di sì? Però non sei convinto è vero? No, no Più di no che di sì Più di no che di sì, ma che diciamo io a Chris Va bene Dottor, vai, vai Sei tranquillo Vai, ciao Punto blu 48.000 km, leggera Prendere un caffè A 6 volte sto detto, quanto lo paghi? Quanto lo paghi? Quanto lo paghi? Questo signore chi è? Un amico Un amico Un amico Un amico E niente, ho aspettato che non pioveva Ma ha piovuto forte finalmente Ha piovuto, ha piovuto Però le previsioni del tempo dicevano che non pioveva A te era una sapavetta Ma vedi quanto piove, guarda un po' Sempre che ha Senti, ma la domanda è importantissima Domenica ci vai a votare? No, quello non si può dire No, ci vai a votare o no? Non si può dire Non si può dire Non lo posso dire Che pensi di fare? Vabbè non ci vale Non ci vale? Veramente Sarebbe la prima volta? Si Non mi fido più di nessuno Ma guarda che non sei il solo che dice questo No, no, cioè guarda E' una vergogna però A non andare a votare è una vergogna Pure Davide ce lo può confermare Un 70 e 30 Si? Si 70 che non ci va 30 che ci va Io se non ci fate E' la prima volta che non ci vado Ah Vabbè Stai Ancora Il 90% però A chi lo do? A chi lo do? Dai questi che stanno a fare no? Stanno I noi di qua E quelle altre Noi di là Noi vi promettiamo un milione di euro Noi due milioni Hai visto quel film? Ma no ti ragiono No 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 Nessuno parla Guarda facciamo Dalle centrali per fare Per Per Diminuire i costi d'energia No 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 Ma questo il rush finale Si Ti metto di oro Ma Chi deve dare la cacciotta Si Va bene Io Non lo so Poi si può che ci vado Vai Guardarsi pure ci vado Ciao Ciao ragazzi L'amico nostro Buongiorno 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 Bene bene Tutto regolare Ti vedi informissimo Si buone Si buone Grazie a te Grazie Purtroppo io sono stati 40 giorni Me l'hai detto Me l'hai detto Stai un po' Ma domenica Ci vi vota Io fai che vota No 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 Non ci vado proprio Non ci vi Lo puoi mettere sul giornale perché hanno rotte le scatole tutti quanti hanno rotto le scatole tutti quanti hanno rotto queste diciamo le scatole per essere educati no ti vorrò cose di tagliabox e quindi le scatole a tema lo so lo so non vedi che macelle che è noi vogliamo la tranquillità vogliamo la pace ecco e allora noi ci siamo stancati di fare tutto appensato da quella con l'altra poi particolarmente io che ho in età lascio le reti da tutte quelle che insomma se hai deciso non si vuole finito per lo meno fino adesso ho intenzione di non andarci però non lo so ma vediamo va bene ci vai domenica a votare? domenica è un mio figlio eh? pensavo che fosse la mia figlia di tagliabox si 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 ma ci fai votare domenica ci fai votare? certo ci vai? certo c'è un amico tuo qua detto non ci va ci si deve andare ci si deve andare vabbè ciao ciao ma domenica ci fai votare voi? no io ci fai votare noi te ne ho votato domenica no domenica non so ma giri però ci fai io no a votare domenica ci fai votare? ma ti cantare tu? no che pensavo cantare però qua non vedete lo senato ma ora stai lì io voto per te stai lì se canti ti voto allora se mangia forte se mangia forte ragazzi buon lavoro c'è lì un po' il porcetto vettuto brah ma fa pure un po' di pace eh venga per forza la porcetta buongiorno buongiorno signori siete pronti per andare a votare? no 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 per l'amore di Dio non è per l'amore di Dio ma questo è scema noi no tu non ci fai votare? no ferma non mi arpego tu ci fai votare? no te copriti ci fai votare? io eh dipende 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 da che cosa? dipende da che cosa? dipende da che tempo fai? io non vado di qua e di là io ho un partito e voto a quel partito la non faccio da sentire quello quello e quell'altro ho capito capito? tu dottor? io noi stessi e tu ce lo dici? ce lo dici? ce lo dici? eh no ti pure sono indeciso se chiacca no? no dobbiamo dire che è il migliore offerente ce l'offre di chi? ce l'offre di chi? ce l'offre di chi? che tutti promettono ma che fai? all'offerta chi è qua? oh amico mio buon zonno il ciappello è putato non ha? poverà poverà insomma ci si va o non ci si va? ci si va 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 però eh però eh la donna prende troppe voti tu dici? la donna 10 mila voti di più prende chi dunque sente tu la passa eh non sbagliare mi dico la donna eh la donna c'è cazzia questa donna la donna non sbagliare tutta la donna si senza fare no la donna senza fare no la donna la donna la donna prende la donna prende la donna prende mi crede? non mi crede? la donna prende 10 mila voti di più staremo a vedere tu che dici? questo non me non lo so non lo so in questa indecisione con questa indecisione vi salutiamo ciao signore buona giornata vedremo vedremo se andiamo la settimana prossima si oh well hello my friend hello ah we met again ah we met again ah you remember me ah that's good I have good friends I have good friends not remember me ah do you remember me oh you remember me we lost to win we lost to win very sorry about that what do you say? 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 we have bad administration in Mociana for 20 years the road never done nothing in Mociana traduzione c'è una cattiva amministrazione in Mociana da circa 20 anni non convene niente non fanno niente non fanno niente capito? tutti in tasca l'ora tutti in tasca l'ora eh but uh one question yeah you try eh Sunday Sunday you go to the votazioni eh I go in too yeah I go in eh what do you think one of the best? what do you think? one of the best um at the moment uh all the propaganda you can't you can't make up real your mind I think uh go to the right I go to the right I go to the right I think when you change this side because you think what we need gas oil petrol everything all block all block that's a mafia 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 io ho le bollette se le bollette sono alte sono alte perché? perché? perché noi non prendiamo le nostre facemole da fuori perché? perché qui non si sfruttano e poi non si mettono nel culo capito? va beh qua apposci cattopoli cattopoli grazie mio amico grazie grazie ciao ciao abbiamo congo in bellezza amicovini buongiorno buongiorno a te Gisè per esempio la domenica sei pronto per andare a votare? sono pronto però vi sa piace niente so capito tanto chi voti voti cosa cambia? beh non cambia niente vedi che la pensiamo per una nuova per oggi per davvero morale ci vado poi questi voti non si dice però secondo me lunedì è uguale a oggi che mercoledì non cambierà niente sempre che la speranza sempre di cambiare ma sicuramente non si cambia con un voto probabilmente in questo periodo che è tutto un rebus quindi almanarano casino però il mio punto di vista credo che sia di molti punto di vista va bene l'amico Walter che dici qua? l'amico Walter e qua possiamo fare un annuncio dobbiamo trovare una squadra una squadra una squadra una squadra eh facciamo un annuncio per una squadra devo trovare la squadra per forza per forza per forza non mi tocca lavorare una H24 e pensa H24 al lavoro ma ti esce una squadra ma ti esce stai tranquillo che ti esce vabbè solo tu puoi mettere una buona parola qua allora più pubblicità in così non possiamo fare appunto vai troviamo squadra buona giornata buongiorno buongiorno tu maestro non ci vai quest'anno sei sfiduciato è che ho 82 anni ci sono andati sempre quest'anno non so a chi deve votare eh già votato chi deve votare? eh non lo so eh e pure forza non ci vado eh ma faccio come hai detto signore se piove mi scinga la casa ma ci si deve andare ci si deve andare perché è un dovere però eh c'è un però c'è un però che il però è è un po' difficile vabbè signori buona giornata ciao ciao come vedete grossa indecisione sull'andare a votare o sul non andare a votare di partiti lo sapete non se ne parla non si sa chi si vota però c'è indecisione se andare o non andare secondo me quest'anno la percentuale sarà veramente bassa ora faccio una previsione eh signor tu domenica ci vai a votare beh ci devo ancora pensare mh perché questi voti di oggi non è tanto semplici questi ci vanno a prendere qualcuno mh non ti piace la masciata la masciata è un po' troppo difficile uno deve prendere tante decisioni ma prendere il ritmo un momento perché ora ancora lo sbandono tutti fanno tutte le pubblicità la campagna ma tutto con gli stessi motivi abbassare le cose ma le tenete abbassate che le state azzate a fare prima e voi se siete azzate scusa eh ma volete abbassare per prendere le voti non è giusto a cucina insomma ma chi sta tende dopo la settimana prossima al cagnetotto eh eh ma questo quando fa le campagne elettorali dice quello che piace a noi però quando vanno la la poltrona fa quello che piace a noi beh va bene ascoltate la signora parole sante parole sante eh ma io posso sbagliare perché è una persona di poca cultura no no signora dico quello che pensa insomma bravo signora buona giornata grazie se ci vuoi votare voto è buono eh ma vediamo ci tengo ancora a pensare va bene grazie ciao parole sante la signora parole sante poca cultura ma tanta goccia ci andiamo a votare come no ci vai come no tu sei convinto no tu non ci vai è un obbligo votare è un dovere è un diritto davvero convinto che lo dico e quindi questo non ci va che gli facciamo condannato a morte ha fatto la bugia ci andiamo ci andiamo ci andiamo ci andiamo ci andiamo ci andiamo no 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 il voto è segreto ci andiamo ci andiamo che domenica andrà a votare allora io ho capitato Tu puoi dire guarda caro signore che intervista, guarda che votare è un diritto e un dovere, quindi tu ci devi andare, comunque ci devi andare. Però secondo me tanta gente non andrà? Ed è sbagliato, è sbagliato. Sicuramente pure questa sbagliata passa qua, però pensiamo positivo, magari è stato costretto, pensiamo positivo. Secondo me non ha fatto una bella manovra, come guardano tanti politici, però va bene. Quindi a votare sì, va bene. Finisce qui un'altra puntata di Dilla Stellina, lunedì, martedì, giovedì e sabato, 19.30, canale 16, Super J. La mail Dilla Stellina, chiocciola, superj.it, il numero whatsapp 351 7532450. Ringraziamo Davide alle riprese, tutta Super J, come dice Stellina, fatti portare. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.